A Parfermé fluttuiamo tra moto e auto e la volta delle moto Fabio Di Palma non ci sono però solo Spice e Lorenzo a correre nel pianeta Yamaha ma anche un pilota italiano che a noi interessa particolarmente Sì, dovizioso chiaramente, ma in realtà c'è anche un buon Cratch che proviene anche lui da Superbike, ex campione del mondo super sport La sensazione a vedere i test è che tutte le Yamaha siano andate bene e ho ulteriori testimonianza che la moto quest'anno sembra essere nata bene Sì, questo dimostra che il progetto è nato bene E poi chiaramente sono mille quindi saranno sicuramente tutte e quattro uguali Che cosa succederà per Dovizioso se dovesse per esempio dimostrare di essere magari consistente tanto quanto i piloti ufficiali? Questo non lo so, sicuramente sulla carta le moto dovrebbero essere uguali Penso che le nostre avranno qualcosa in più e poi automaticamente quando noi riceveremo degli step magari a distanza di due o tre gare poi anche Andrea e Cratch lo riceveranno Però vedi Guido, prima si parlava di polemiche che mancano in Formula 1 quando invece un tempo c'erano i piloti che alzavano di più la voce però adesso parlando di MotoGP, di questi piloti in particolare mi viene in mente una cosa che la Formula 1 di Alex era una Formula 1 dove il peso del pilota, il valore aggiunto del pilota era un altro quindi il pilota poteva e alzava la voce Fino a un certo punto perché non credo che Alex ai tempi dell'Osello ovvero quando ha debutato in Formula 1 potesse poi fare cose strepitose perché correva con un team estremamente piccolo e questo è rimasto nel corso degli anni ognuno che corre con la HRT più di stare davanti al proprio compagno di squadra però quello di tu presumo sia i piloti di fascia alta vincenti e in quel caso ricordiamo la famosa polemica comunque voce grossa che fece Prost nei confronti della Honda quando vinse appunto il Mondiale che accusò appunto la Honda di facilitare invece Ayrton e così via e da lì un attimino un po' un'altra di quelle varietà però insomma lì il pilota era, faceva ancora la differenza però ci permetteva di dire cose di questo tipo quello è vero chiaramente però ecco oggi la rivincita di Stoner è quella poi fondamentalmente sì probabilmente ecco hai ragione il fatto che lui dica queste cose essendo un po' un attimino una voce fuori dal coro rispetto a quello che è la normalità dei piloti di oggi quindi risulta essere forse una polemica o un qualche cosa di così di più ampio mentre invece è una cosa che probabilmente 10 anni fa o 15 anni fa si è stata nella normalità o anche 20 voglio dire quindi non vedo tutta questa una sorta anche di rivalsa se vogliamo comunque anche Valentino non è mai stato molto tenero nei confronti se vogliamo dirla tutta dei propri rivali quindi voglio dire ognuno ha avuto la sua quindi chi la fa l'aspetti e va bene così è una ruota che gira come per tutti i guanti Paolo Filisetti dai test delle moto forse si è compreso che Yamaha è comunque ad un livello altissimo che l'onda è abbastanza costante la Ducati insomma è balbettante in Formula 1 invece da quel poco che riesco a percepire si è capito realmente niente potresti fare una sorta di griglia ideale di partenza del primo Gran Premio? poi se la sbagli non vieni più dovremmo richiamare Matteo Bazzi a parlare di rally però insomma non è più che corro ecco va bene beh io direi la McLaren molto bene quindi la vedrei in testa in questo momento quindi la politica di non fare lo scalino è quella vincente per il momento ma sai allora lo scalino obiettivamente sarà il leitmotiv anche visivo di tutta la stagione quindi molto delle polemiche si incentrerà cioè delle polemiche del fatto se era giusto o meno lo scalino poi sappiamo benissimo parlando con i progettisti che un muso più alto un muso più basso non cambia sostanzialmente nulla però la McLaren molto bene mi sembra una macchina ben bilanciata hanno raggiunto subito i tempi rapidamente la Red Bull d'obbligo molto forte ha avuto qualche problema di affidabilità hanno provato un'ala che si è distrutta e quindi però sono quei problemi di costruzione che tu risolvi appunto prima dell'inizio della stagione la Mercedes bene ma vedrei appunto come outsider la Renault cioè scusate la Lotus ex Renault non solo per il tempone di Recon ma perché ha dimostrato che è una macchina che c'è e la Ferrari diciamo in quarta barra quinta posizione cioè dietro addirittura la Lotus sì oh Alex si è ammessi veramente male quest'anno però aspettiamo aspettiamo un attimo prima di trarre dei giudizi definitivi però in effetti sul passo di gara la Ferrari non era sicuramente competitiva come queste letture c'è anche da ricordare che l'anno scorso la Renault ovvero l'attuale Lotus era andata fortissimo nei primi gran premi poi è venuto a mancare Kubica è venuto a mancare lo sviluppo e poi dopo anche i soldi quindi le evoluzioni sono già partiti al massimo e hanno poi sceso un pochettino la graduatoria dei valori Alex a parte i tuoi impegni professionali adesso sei anche diventato un imprenditore e hai scelto come impresa un'impresa molto vicina al mondo dei motori anche se questi mi sembrano elettrici più silenziosi ma hanno anche un grande successo sì visto che ho contribuito ad inquinare per anni di gare e così via quindi mi sono sentito anche di motocross iniziando da quello infatti parlavo prima appunto cioè questo ha smesso di correre in Formula 1 si è messo a correre in motocross io ho iniziato con il motocross da bambino avevo 10 anni quindi voglio dire con Pirovano con Fabrizio quindi sì questo è questo progetto che è nato da pochissimo circa un mese che ha aperto in realtà appunto a Milano a Cinisello Balsamo un cartodromo innovativo il primo oserei dire nel mondo perché ha una grande tenso struttura quindi non è niente di costruito 8000 metri quadrati con una pista di 600 metri di lunghezza con carte elettrici totalmente elettrici batterie a litio quindi anche molto veloci con la possibilità di avere anche il volante tipo forma 1 con il KERS per i sorpassi Palacappa si chiama è il primo di una grande serie che ci auguriamo appunto potrà potrà nascere poi in tutte le città d'Europa con questo gruppo di imprenditori fra i quali c'è anche non un pilota ma un calciatore che è Mario Balotelli essendo mio concittadino quindi lui lo farà a Manchester esatto ma è già venuto un paio di volte a provare quindi ecco infatti è già il carte lì è disciplinato no lì è bravo infatti è l'unica cosa in cui riesce a essere non c'è Mancini che lo tiene a bada però lì è riusciamo a tenere un attimo io scommetto inviterai anche alla fine tutti i ragazzi del moto mondiale perché Mario abita a due passi no assolutamente anzi invito tutti voi ospiti e a quali vi daremo sicuramente una possibilità faremo una sfida anche interna a Pac Fermé se volete sicuramente come volete voi vince il nostro editore esatto più naturalmente parti dietro con il kart di studio per forza per forza di cose Maio io ho un grosso però punto interrogativo c'è Fabio Di Palma che è da circa otto mesi che non dorme la notte si domanda ma perché la Yamaha si è ritirata dalla superbike quando aveva una moto competitiva cioè non dirmi che adesso tu lavori nel mondo dei Grand Prix quindi non ti può interessare perché hai passato una vita nella superbike anche perché ci ha confidato che quando è stato ieri che hai aperto quella porticina sei andato di là e sono ancora lì quelle Yamaha superbike non sono finite sotto una pressa la ragione è una sola purtroppo è una questione economica io ho iniziato lì dentro quel reparto dieci anni fa e sinceramente ieri quando sono andato per cercare del materiale che ci serviva ho provato qualcosa di non bello un'altra domanda ti volevo fare l'anno scorso quando il vostro pilota si è infortunato invece nel mondiale perché non avete pensato a Marco Melandri come sostituto perché sembra che Marco ci sia rimasto particolarmente perché comunque Marco aveva già un contratto con BMW Ah già all'epoca? Sì perché alla fine era fine stagione Ti risulta Fabio? Lo stai guardando con l'occhiettino furbo che ti contattiscono? No no ma è chiaro credo che insomma Marco ci sia rimasto male perché comunque chi è stato trattato male dalla Yamaha è Marco perché all'inizio quando siamo tornati da Silverson il lunedì mattina ha scoperto come tutti del resto questa decisione di lasciare in forma ufficiale la Superbike quindi come dire secondo me era un modo per comunque per ringraziare Marco di quello che Marco non è trattato male dalla Yamaha Marco se adesso è lì forse anche grazie Yamaha perché ha riportato Marco alla vittoria La decisione tu hai detto ufficiale ufficialmente perché insomma non c'era il budget per proseguire con un programma ufficiale di fatto diciamo in quei tre mesi che hanno seguito la decisione le opportunità non sono mancate per gestire quel programma però nessuno dava delle garanzie e ad un certo punto chi doveva decidere di fronte a niente ha dovuto prendere questa decisione resta il fatto che quelle moto sono ancora lì in sede cioè quelle moto sarebbero sicuramente moto da prime due file sì anche i CRT sarebbero molto interessanti secondo me visto che si può visto che la Priglia fa una bellissima CRT usando la Superbaria Caffi secondo me se gli dite adesso vai a correre anche in questo momento io mi sto rampicando perché non ho mai capito il motivo per cui siamo riusciti a mandare questa decisione speriamo che lui riesca a mantenere anche il posto di lavoro sono stato contrario a questa cosa lo sono tuttora però purtroppo di fronte a la verità è che la responsabilità di questa decisione è stata in Europa sì di Lorenz ma poi alla fine Lorenz stesso non ha mai accettato altre forne la verità a livello di carriera invece Alex tu quando ti sei sentito in difficoltà quando abbandonasti Scuderia Italia a favore del progetto Footwork in quel momento assolutamente io pensavo di avere preso la decisione giusta perché chiaramente per me rappresentava il futuro io firmai nel 90 con la Footwork Arrofs perché sapevo benissimo che loro mi avevano proposto un contratto di due anni e la Porsche nel secondo anno sarebbe entrata fornendo i motori ufficiali l'unico motore sbagliato dalla Porsche si era ritirata qualche anno prima vincendo tutto quello che c'era da vincere non so quanti mondiali con Lauda e Prost e chiaro io e Michele Alboreto formavamo la coppia giusta perché lui l'ha fermato ormai pilota e io il giovane da crescere mi ero ripromesso che vabbè non avrei vinto il mondiale quell'anno ma sarei arrivato secondo vincendo qualche gara questa era un po' la mia idea visto appunto il potenzialità che avevamo all'inizio dell'anno con tutto quello che la Porsche comunque aveva messo in termini sia di denaro sia di tecnica sul campo ti devo stoppare perché l'Adriana è inclemente come il tempo pausa pubblicitaria ci ritroviamo qui a Parfermè per sospettare un po' Grazie a tutti.